Ciao a tutti ragazzoli e bentornati, bentornati anche oggi in un nuovo video con questa scatola tutta bella zozza ma immagino già saprete cosa sia dalla miniatura perché la promessa è miniatura ma non è solo quello, ci sono degli altri prodottini dentro che mi sono arrivati sempre dalla Insta360 e adesso andiamo a vederli e intanto vi spiego vi dico solo che diciamo che ho pagato la Insta360 Go 3 circa 80 euro ma andiamo subito ad aprire il pacchetto, è già aperto ma perché sto aspettando diverse cose anche per la casa stavo aspettando anche un rubinetto, pensavo ci fosse dentro quello visto il mega peso e il tipo di scatola anonima senza scritte solo con il mio indirizzo e invece no, invece l'ho aperta appunto perché non ero sicuro e c'era dentro la Insta360 era come avete visto già in miniatura la black ragazzi, non è finta, non ho usato Photoshop è veramente la versione nera, prima volta in assoluto che la fanno, perfetta per me perché io che vesto sempre nero, se me l'attacco qua davanti appunto con il ciondolo magnetico che c'è al suo interno è praticamente invisibile, perfetto per continuare la mia serie del ma come ti guarda la gente per strada? così è very invisible, non che l'altra si vedesse dentro ci sono altri due prodottini che adesso andiamo a vedere, non ve li spoilero anzi tre, con anche questo ceriamo tutto fuori iniziamo andando a vedere appunto gli altri prodottini intanto vi racconto allora, uno dei prodottini è la Carry Case questa pagata zero totalmente andiamo a vederla, ho pagata circa 80 euro quando ne costa 400 perché avevo logo 2, come molti di voi sapranno, ce l'avevo da un annetto circa l'altro giorno ha smesso di funzionare l'audio stavo facendo dei video, a una certa vedo le registrazioni fatte e c'era l'audio tutto con un rumore sotto a volte era sordo, a volte proprio faceva rumore così da nulla, non ha preso botte, non è caduto al che ho detto, boh, proviamo a sentire Amazon vediamo cosa mi dicono, è passato più di un anno vabbè, li ho contattati, mi hanno chiesto abbiamo parlato 5 minuti era tipo mezzanotte meno un quarto, fino a mezzanotte sono presenti guardate che figata ragazzi è bellissima, non è piccola ma in teoria ci sta dentro tutto, intanto vi faccio vedere tutte le cose, qua c'è il loghino come vedete anche sulla cernierina andiamo ad aprirla molto molto bella rigida, per non pigliare botte se magari uno ce l'ha nello zaino tac, qua c'è tutte le parti per gli accessori c'è lo spazio appunto per l'action pod, c'è lo spazio per il mini 2 in one tripod, ah sì, vabbè, il treppiede che io non ho, adesso vediamo poi se ci entra l'altro mio o ci entra qualcos'altro e ci sono i vari spazi per tutti i vari accessori, qua c'è questa parte elasticizzata, dove poter infilare che ne so, cavetterie e altre cose molto molto utile, loghino anche qui, bella, questa era il regalo. Vi dicevo, ho contattato appunto Amazon, dico che non funzionava più, abbiamo parlato per un po', anche se era passato un anno mi fanno, ti rimborsiamo i soldi io faccio, ma seri? Mi fanno sì, io li faccio, boh, io volevo sapere se magari potevate aggiustarla, mandarla in qualche assistenza o roba simile, mi fanno, no, rimborsiamo ti rimborsiamo i soldi. Va bene, ho detto con quei soldi me la ricomprerò non ha certo, ho detto, porca troia raga, mi è uscita la 3, sono andato a vedere il prezzo era tipo sui 400 euro, se non sbaglio ho detto, boh, perfetto raga, perfetto mi ci compro quella nuova, cioè alla fine hanno fatto tutto l'ora, io l'ho solo detto che non funzionava più, mi hanno voluto rimborsare in realtà i soldi ancora mi devono arrivare, stavo per comprarla sempre da Amazon, la Insta Go 3, alla fine poi sono andato a vedere fortunatamente sul sito e sul sito, allo stesso prezzo perché era scontato a 3,29, in più ti davano i case e quest'altra cosa, quando ho visto anche questo ho detto, no, top ragazzi, cioè la voglio veramente, avevo già visto qualche youtuber che ne parlava diciamo che era fatta, che era una buona qualità poi ho scritto Insta360 ho assolutamente preso l'occasione ok, non l'ho presa da Amazon quindi se ci sono problemi o altre robe di qua di l'Amazon, è molto più semplice invece questo mi è arrivato direttamente da Insta360 che poi ho scoperto arrivati dalla Cina il prodotto, infatti ci ha messo comunque una settimana circa e compreso c'era la borraccia della Insta360 ragazzi, ancora non l'ho guardata è bellissima, è bellissima top, è bella pesante logo in rilievo Think Bold, fighissimo anche la scritta, vediamo che c'è questo mega tappone andiamo ad aprire sono incurioso bella, normale, alla fine bella spessa quindi sarà sicuramente caldo o freddo tappino fatto così veramente, veramente figa questa era una cosa che volevo l'ho vista da qualche youtuber che l'aveva ovviamente ricevuta insieme alle videocamere gratuitamente ma mi piaceva ho un sacco ultimamente sto accumulando borraccia mi piacciono sono comode da usare soprattutto quando vado in montagna e poi appunto magari tante volte non vai a usare la plastica che inquina poi a riempire comprare sempre bottigliette eccetera eccetera ti tieni questa in giro e sei a posto ma ora passiamo a perso forte se no qua tiriamo sempre lungo prima andiamo a aprire questo piccolo pacchettino costava veramente poco e questo semplicemente è il cavo di sicurezza ovvero quando ce l'avete qua nel ciondolo calamitata potete andarci a mettere intorno questa parte qua di gomma e avercela comunque qua calamitato e attaccare quest'altra parte del cordino al cordino del ciondolo in modo che se comunque ci sbattete a me è successo di fare un video che ho portato anche qua sul canale un annetto fa circa se non di più dove andavo a fare il tree experience quello che ti arrampichi sugli alberi vai con la fune da una parte all'altra eccetera eccetera e ce l'avevo attaccata qua ho sbattuto contro una delle funi ed era caduta di sotto caduta sul morbido non si era fatta niente però con questo in caso uno vada a fare qualche sport un po' più estremo almeno avete la sicurezza che se ci sbattete non la perdete poi la calamita è veramente forte se ci camminate o fate altre cose nessuno vi sbatte contro difficile che salti via allora andiamo ad aprire la confezioncina come dentro dentro appunto troviamo il ciondolo magnetico l'attacco quello per il cappellino che già avevo ma visto che le dimensioni sono cambiate leggermente non credo vadano bene e in più il nuovo attacco appunto magnetico con la parte adesiva quella in silicone che puoi rilavare riutilizzare mille volte infinite è arrivata giusta oggi che è venerdì io domani salgo a Torino per un altro video che uscirà veramente presto non so se l'avete già visto prima di questo o lo vedrete invece dopo questo mi torna veramente utile meno male che è arrivata giusto in tempo andiamo ad aprire tac no raga guardate che bella poi è nera opaca cioè la vedete nera opaca così è fighissima cioè l'hanno fatta per me ragazzi è leggermente più grossa dell'altro ma veramente veramente impercettibile qua dietro gli hanno fatto un nuovo grip che nell'altra non c'era ora non ho da confrontarvi l'altra appunto perché l'ho rispedita indietro vediamo via tutte le plastichine finchia bella spessa la scatola porca troia che cazzo bellissima ragazzi bellissima opaca così fighissima qua c'è anche il nuovo aggancio magnetico con i due cosini per cliparceli così da essere più sicura buono anche perché io appunto l'altra avevo degli agganci classici che si avvitavano e che si attaccavano comunque al classico aggancio gopro ma ahimè ora non andranno più sicuramente bene visto che questa è leggermente più spessa se non sbaglio qui c'è un coso in tessuto si va ad aprire tac troviamo le varie e fast istruzioni su come connettere come usare eccetera eccetera andiamo ad aprire qua e allora tiriamo via la prima parte già è saltato fare un pezzo qua ci saranno dentro un po' librettini e altre cose troviamo il clip per attaccare il cappellino o qualsiasi altra cosa ci si riesca a infilarlo il ciondolo magnetico che questa volta è cambiato ragazzi intanto andiamo a vedere è diverso è gommosissimo ragazzi questa parte l'hanno fatta gommata e vediamo che ah ok l'hanno fatto così in modo che comunque uno lo srotola e quando non gli serve comodissimo ragazzi lo arrotola e ce lo richiude dentro in modo che non ha tutto il cordino in giro solo quello è stato cambiato poi alla fine sempre funzionamento così se lo piazzi qua c'è la calamity e tac ovviamente questo va messo dietro la maglietta ragazzi cioè guardate nero sul nero sparisce totalmente figo questa cosa mi fa veramente impazzire è diventata una mini spy cam più di prima allora andiamo ad aprire qua dentro come vedete troviamo l'altra parte ovvero la parte qua magnetica bella bella pesantina questa ok comunque ovviamente ci sono dentro i magneti anche qua sotto da andare comunque o ad avvitarla qui o ad avvitarla su qualsiasi altro cavalletto tre piede o semplicemente anche ad avvitarla al selfie stick ci hanno messo la roba protettiva vedi un tappino e qua invece c'è la parte in silicone che adesso lascerò chiuso che finchè non lo uso comunque lo lascio lì qui andiamo appunto a vedere la parte qua che può essere ultra calamitata ok ha fatto i due click adesso è attaccatissime non si stacca più in qualsiasi modo lo lancio per staccarlo basta andare a schiacciare i due tastini qua se li vedete lo metta a fuoco e poi si tira forte che comunque ha la calamita ora andiamo a vedere l'ultimo pezzo chiamato action pod allora qua c'è un cartoncino eliminiamolo qui va a finire ovviamente la videocamera dietro abbiamo lo schermino anche qua touch che si può ribaltare ragazzi hanno fatto sta cosa ultra fighissima quindi anche quando ce l'avete in mano e state vloggando o altro potete vedere quello che state riprendendo potete connetterlo ovviamente a distanza prima si usava il telefono quindi dovevi connettere ogni volta il telefono e vedere se volevi vedere quello che stavi riprendendo dovevi guardare direttamente lo schermo del telefono qua invece basta con l'appoggi lì questo lo metti di là puoi vedere direttamente cosa stai riprendendo senza dover collegarci il telefono che tante volte la connessione andava un po' a cazzimo ci metteva un po' a connettersi allora questa va inserita così qui vediamo che c'è la TAC USB Type-C di qua vediamo due tasti accensione e spegnimento e il tasto Q che è un menu rapido per poter passare appunto da video timelapse timeshift eccetera eccetera andiamo ad accenderla fa scegliere la lingua scarica la pista 360 e ce l'ho già scaricata e questo comunque è il nuovo gioiellino voglio darvi giusto due cose tecniche per magari chi non ne ha ancora sentito parlare anche se ormai è uscito già da diversi mesi allora il peso è di 34 grammi ovviamente solo per la parte videocamerina molto leggera molto piccola qua non vi ho fatto vedere che c'è un lucchettino la videocamerina non si toglie finché non andate a premere questo tastino con il lucchettino in modo che tac si si sgancia questa bellezza è dotata di voice control quindi potete anche tartare e fermare i video senza andarla a premere se ce l'avete magari un po' più distanza o se state magari andando in moto in bicicletta non volete tirarvi alle mani e ce l'avete magari appiccicata qua o sul casco quindi potete semplicemente vocalmente attivare e disattivare la funzione registrazione a differenza ovviamente della Go 2 i video sono di una risoluzione fino a 2,7k ha la solita stabilizzazione flow state e dico solita per dire ma penso sia la migliore delle action cam molto molto buona anche quella di DJI Osmo Action 4 videocamera che abbiamo appunto recensito una o due settimane fa se non avete visto il video ve lo lascio recuperatelo anche la funzione horizon lock 360 quindi potete mettervi anche in testa in giù fare dei 360 come vedete qui da video che terrà sempre l'orizzonte dritto preciso come abbiamo già detto i vari attacchi sono tutti calamitati e ovviamente se avete un palo che siete per strada qua ha la calamita quindi potete attaccarlo veramente veramente ovunque ciondolo magnetico e supporto girevole veramente comodi qua come detto ha il silicone quindi potete attaccarlo e tutte le volte che si sporcherà basterà lavarlo sott'acqua e rinizierà ad appiccicare veramente una cosa molto figa anche questo con questo e con la calamita potete veramente attaccarla dove volete e in più vabbè il classico attacco per cappellino da attaccartola appunto è molto comodo sia se guidate sia se appunto siete in bici sia se volete fare solo dei POV dal vostro sguardo dalla vostra testa è veramente veramente utile con l'action pod attaccato al 50% in più di batteria confronto la GO 2 può arrivare a registrare fino a 170 minuti ovviamente dipende dalle condizioni mete quindi se c'è più caldo se c'è più freddo dipende dalla risoluzione i test che hanno fatto ovviamente il laboratorio sono fatti in 1080p con una temperatura di circa 25 gradi quindi se andrete a farli in 2,7k se andrete a farli magari al freddo o sott'acqua se andrete a farli con altre temperature o comunque con altre condizioni ovviamente il tempo potrebbe essere differente come già detto questo touchscreen orientabile menu rapido con il tastino Q passerà direttamente da una modalità di video all'alto l'action pod ovvero tutta la parte qua resiste agli schizzi d'acqua è IPX4 quindi semplicemente agli schizzi non può essere immerso dentro l'acqua invece il resto della videocamera può essere immerso nell'acqua fino a 5 metri ragazzi quindi senza metterci nient'altro sopra ed è un IPX8 audio potenziator con due microfoni a differenza del Go 2 soprattutto devo testarle in acqua anche perché quando uscivo dall'acqua spesso continuavo magari a riprendere però l'audio rimaneva muto per un po' perché c'era l'acqua nel appunto nei microfoni voglio vedere se succede la stessa cosa anche con questa poi ovviamente le varie modalità sono il time shift lo slow motion fino a 120 fps c'è il pure shot HDR e c'è anche il time lapse oltre vabbè ovviamente fotografia eccetera eccetera c'è anche la modalità loop recording quindi volendo può continuare a registrare potete usarla anche come dash cam la cosa bella che ogni volta decanto delle Insta360 è il fatto che può filmare i video in tutti i formati in una sola volta e poi in fase di editing potete decidere se farli in noni sedicesimi in 16 noni o anche uno per uno quadrati e questa è veramente quella cosa in più che Insta360 che dovrebbero avere anche tutte le altre action cam o comunque videocamera in generale quindi decidere dopo in editing soprattutto per chi come me magari fa video su YouTube ma poi anche delle anteprime su TikTok su Instagram è bello poter appunto prendere il video senza doverlo croppare e metterlo direttamente girarlo appunto in noni sedicesimi e usarlo anche per i social media altra ultima cosa che dimenticavo ha ovviamente anche la modalità webcam come ormai quasi in tutte le ultime action cam in 1080 basterà collegarla comunque a un computer quindi potrà essere usata come webcam con anche il tracciamento automatico che dire ragazzi è un gioiellino soprattutto l'estetica fatta così nera opaca è veramente veramente bellissima tra tutte e due ragazzi esteticamente ditemi voi quale preferite sicuramente hanno due usi diversi la cosa bella di Insta360 che confronto la 2 prima i video duravano massimo 10 minuti se magari era messo su un drone o se magari la si usava in acqua a volte non arrivava neanche a 10 minuti perché si surriscaldava e quindi si autospegneva questa nuova Q3 invece può andare avanti appunto a registrare per tutto il tempo finché batteria e memoria lo consente che dire ragazzoni ditemi anche voi cosa ne pensate qui sotto fatemi sapere se il video vi è stato utile sicuramente adesso usciranno un sacco di nuovi contenuti con entrambe le action cam domani le porto tutte e due su a Torino vado a registrare un video in un negozio di tatuaggi per una cosa benefica ma vedrete tutto nel prossimo video date un'occhiata ai vari link sotto seguitemi anche sugli altri social e che dire nient'altro bella